Oggi siamo qui da Samsung a vedere in anteprima i nuovi Samsung Galaxy S24 Ultra Prime impressioni molto buone per quanto riguarda i materiali Infatti qui adesso abbiamo ufficialmente il titanio per la versione S24 Ultra Mentre per quanto riguarda le versioni S24 normali abbiamo sempre dei materiali premium Rifiniture sicuramente migliori rispetto alla serie precedente La domanda che tutti si stanno ponendo è come adesso lo schermo? Lo schermo è stato migliorato abbiamo adesso ben 2600 nits Finalmente io dico finalmente molti invece sono un po' tristi per questo Abbiamo uno schermo piatto questo agevolerà tantissimo l'inserimento delle pellicole Che finora nella serie S23 Ultra si è sempre stato possibile ma ahimè sempre con qualche difficoltà Soprattutto con quelle temperate Altra novità riguarda l'archiviazione già nella versione da 256 giga Non abbiamo più i classici 8 giga ma ne abbiamo 12 giga di ram E anche ovviamente nella versione da 512 e da 1 tera Per quanto riguarda il design alla fine rimane molto molto simile all'S23 Ultra Non abbiamo particolari cambiamenti a parte appunto i materiali Abbiamo però un nuovo teleobiettivo da ben 50 megapixel Non più 10x ma da 5 e vedremo poi quando avremo con mano il telefono Un bel confronto per capire effettivamente questo cambiamento se risulterà interessante So anche che dovrebbe essere migliorata la stabilizzazione delle immagini Poi faremo anche questo confronto nella recensione definitiva L'Ultra migliora anche il processore Rimane sempre Snapdragon 8 ma di terza generazione Mentre abbiamo gli Exynos nella serie S24 e S24 Plus Per i colori abbiamo nella serie Ultra il Titanium Grey Black Violet Yellow E per la serie S24 Plus S24 l'Onix Black, il Marble Grey, il Cobalt Violet e l'Humber Yellow Anche in S24 e S24 Plus abbiamo sostanzialmente un miglioramento per la batteria 4000 mAh nella versione S24 4900 mAh nella versione S24 Plus Ma il focus principale di Samsung in questa serie S24 riguarda l'intelligenza artificiale E qui ci sono alcune demo che possiamo provare per verificare effettivamente il comportamento di questa intelligenza artificiale Che hanno introdotto all'interno di questi smartphone Un'altra funzione importante che hanno introdotto in questo S24 è ciò che riguarda l'intelligenza artificiale E il riconoscimento delle immagini Infatti adesso c'è un movimento che possiamo fare, adesso vi faccio vedere Che riconosce tutte le immagini e ci dice di che cosa si tratta Vi faccio vedere Per l'attivazione basta tenere premuto e possiamo effettuare un cerchio Per andare a ricercare alla fine che tipo di immagine vogliamo ricercare Per esempio in questo caso la galleria di Samsung Mandando con le foto vedete un po' possiamo sicuramente avere maggiori informazioni Per esempio vogliamo acquistare questo bel vaso Basta che teniamo premuto il tasto centrale Senza neanche scattare la foto Facciamo il cerchietto E lui con una ricerca mi trova il vaso Per esempio lo voglio verde Verde E lui mi aiuta a trovare qualcosa di simile in maniera molto molto semplice Sostanzialmente è un'integrazione di Google Lens Senza andare a premere Google Lens Andare a fare la foto Noi in qualsiasi momento basta che teniamo premuto E possiamo andare a selezionare l'area da scansionare con l'intelligenza artificiale Un'altra novità importante per l'intelligenza artificiale La trascrizione automatica dei testi durante le registrazioni Ma non solo Perché lui riesce a riconoscere in automatico fino a dieci persone diverse Quindi se arriva un'altra persona in questa discussione Lui in automatico quando farà la trascrizione Dividerà le due persone E in più mi farà anche il riepilogo Per raccontarmi in poche parole Che cosa si è andato poi a discutere durante questa discussione Quindi io adesso ho registrato Fermiamo Posso premere su trascrivi Indicando la lingua Posso anche selezionare altre lingue oltre l'italiano La trascrizione l'ha realizzata in pochissimo tempo Vedete qui abbiamo tutto il testo registrato In più andando in riepilogo Nel giro di qualche secondo Mi fa la trascrizione automatica di quello che è stato detto Ovvero l'intelligenza artificiale Lo scrive automaticamente i testi durante le registrazioni Riconosce fino a dieci persone diverse E fornisce anche un riepilogo della discussione Praticamente hai riassunto in pochissime parole quello che ho detto Per esempio qui abbiamo un'altra registrazione Che è stata fatta qui in loco E abbiamo la distinzione come vi ho detto prima Tra gli operatori che hanno parlato durante la registrazione Un'altra importantissima novità Riguarda la traduzione istantanea durante le chiamate Ebbene sì questa è una funzione che secondo me cambierà totalmente Il mercato degli smartphone Perché effettivamente non c'è più quel problema della barriera linguistica Adesso proveremo a chiamare un ristorante coreano E vedremo se riusciremo a parlare senza sapere appunto il coreano Qui possiamo premere traduzione live E' partita la traduzione Buongiorno vorrei prenotare un tavolo per stasera Oggi verso le sette e mezza di sera Va benissimo Tre persone La ringrazio Buona giornata Ok Avete visto come mi ha tradotto in tempo reale E non solo mi ha mostrato il testo ma anche ha parlato Questo riesce a distruggere completamente le barriere linguistiche Rendendo praticamente lo smartphone uno strumento essenziale per comunicare con il mondo Nel caso in cui non conosciate una lingua Abbiamo un'evoluzione anche per quanto riguarda le foto Infatti adesso grazie all'intelligenza artificiale possiamo effettuare delle modifiche Per esempio qui ho scattato una foto di me stesso Premendo qui riesco a muovermi La giro Vedete qui hanno creato una situazione molto carina dove c'è un idrante al contrario Vediamo Facciamo genero In automatico mi genera dietro o uno sfondo o comunque un'immagine che potrebbe in qualche modo sostituire la mia persona Un'immagine modificata con l'intelligenza artificiale Altra cosa interessante che possiamo fare Abbiamo fatto un'immagine Non è proprio dritta Io premo di nuovo la modifica Posso raddrizzarla in questa maniera Faccio genera Vedete che ci sono tutti i bordi trasparenti Lui con l'intelligenza artificiale va a generarmi quei bordi che non sono presenti nella vita reale E mi ha raddrizzato praticamente l'immagine andando a coprire quei buchi Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo di importante il miglioramento dell'ottica del teleobiettivo Che è diventato da 5x ma da ben 50 megapixel Vedete riusciamo a cambiare Sempre con la qualità Samsung a fotografare le nostre immagini Che poi vengono elaborate e migliorate per quanto riguarda l'illuminazione L'anteprima termina qui Vi posto qui i prezzi di lancio di questi smartphone Poi attenzione ci saranno anche delle promozioni che riguarderanno anche il ritiro dell'usato Quindi date un'occhiata Vi lascio il link qui sotto in descrizione Fatemi sapere cosa ne pensate E ci aggiorniamo presto con un video più approfondito su questi modelli Quando li avremo in mano